Siamo molto contenti di celebrare una volta all'anno i nostri ragazzi, gli sportivi Santa Magherita, coloro che le stesse associazioni ci segnalano per avere particolarmente eccelso nelle varie categorie. D'altronde è bello che sia lo sport a parlare di Santa Magherita, dato che il nostro territorio è un territorio molto predisposto alla collezione sportiva, sia nell'area mare che nell'area terra, essendo posizionato anche all'interno di due straordinari contesti naturali come il Parco di Portofino e l'area marina di Portofino. Dunque è bello vedere come questo territorio può essere vissuto attraverso lo sport. Un comune che si scalda per i grandi eventi di questo 2017, uno c'è già stato, la mezza internazionale delle due perle, ci sono altri cinque nel 2017 che avete messo in rete attraverso un brand particolarmente accattivante, Santa sei super sport. Sì, è molto bella l'idea della consigliera Marchesini, delegata allo sport, di creare questo sistema tra gli eventi sportivi più importanti, proprio per utilizzarli come luogo di promozione di Santa Magherita. Sono attività già eccellenti di loro conto, ma che messe insieme per creare una sinergia diventano davvero un veicolo informativo, promozionale e di vissuto. Credo che davvero possano essere poi anche da esempio per crescere, per altri eventi magari nuovi o oggi di mirore rilevanza nazionale e internazionale, ma che vedendo davanti a sé, come dire, che c'è già un brand che comincia a funzionare, può essere attrattivo, può essere di stimolo per tutti. Stasera abbiamo voluto dedicare la serata agli atleti di Santa Magherita, che si distinguono negli sport e nelle rispettive discipline, e nel contempo anche le associazioni sportive che tanto lavorano per i nostri giovani. L'occasione anche della tavola rostonda è proprio dedicata ai giovani, perché si parla di gruppo, si parla di crescita dei campioni. Era importante focalizzare l'attenzione su questo tema. Sì, ci piaceva legare la serata ad un tema che potesse essere interessante anche per i giovani. Infatti parleremo di come gestire un gruppo e come far crescere dei campioni. E' per questo che abbiamo chiamato dei tecnici e dei professionisti del mondo dello sport, che bene ci sapranno indicare quelle che sono i loro trucchi, le loro modalità per far crescere un gruppo e costruire un campione. È un anno speciale con eventi speciali nel 2017, li avete legati assieme. Santa 6 Super Sport, le grandi sei manifestazioni sportive di Santa Margherita, che vogliono portare un turismo destagionalizzato nella nostra città, su cui crediamo e su cui abbiamo scommesso.